Benvenuti a un'altra bunda di Trollandia! Oh Dio! Eh dai su! Che dopo Ricky vuole vedersi all'opera Io sono sempre in connected Loading the level Ok I'm here! Non mi ricordo più un cazzo Cosa devo premere? Niente vero? Niente niente Tu sai come si attiva la torcia? Ti danno un rutto F? Non funzionava F come flashlight F come flashlight O come flashbang Manca Perché se ne sono due Eh sto luogando il livello Eh vabbè Oh no Si si non ti preoccupare Adesso vengo Tu cosa sei? Vengo da te No Il canide No! Maledetto! Aiuto! Si! Sono una guardia E io sono di merda Quindi basta che lo faccio uscire Abbiamo vinto Corri corri Badabombi Nooo C'è suo denegato Eh perché non salvarti Non preoccupare Ma se sei una guardia Non dovresti salvarmi Dovresti uccidermi Vedi? Vedi perché poi non capisco una sega io Che senso? Eh perché uno mi dice una cosa Un altro me ne dice un'altra In verità Ok tu devi scappare giustamente E' meglio che ti prenda io E ti uccida io che ti prenda lui E ti uccida lui No perché io non devo ucciderti Io devo arrestarti E posso fargli entrare come guardia E se mi uccide è uguale Beh se puoi sopravvivi Esci da solo Ma se proprio devi morire Morire Cioè Morire Mori per mano mia E non per mano sua Così vinco io e non vince lui Beh mi sembra giusto No boh ma non è che mori Ok e c'è la quarta volta che faccio il giro Per mano mia Io sto facendo il giro La terza volta che faccio lo stesso giro Prima di andare di qua Qua succede? E torno dove ero prima Che coglioni quanto odio sto gioco Aspetta aspetta Riff quando è che ci fai il tutorial? E' appena riesco ad arrivare giù Io sono sempre nello stesso punto Qualsiasi strada Tutte le strade portano A sta merda di posto Oh adesso arrivo Dimmi 1 2 3 Ricky 1 Ok Ora funziona Ah non posso stendere l'ascensore Che storia C'è 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 un cannon Ma di solito so' E' senza freddo E' senza freddo Ma ci sono Sostava No No Che succede? Ce l'è massato? Sato fulminato Buon Peppe abbiamo vinto Ecco vabbè adesso faccio Peppe Allora Adesso che c'è la tessera Entro indietro No No non c'è niente in questa stanza Una volta che hai preso la tessera Vai Puoi anche premere sulla porta eh Per aprirla Se prendi shift vai più veloce Se prendi shift vai più veloce Se prendi motoshift Buona terversa Ok Guardati in alto sui Guarda in alto qui Allora tutte le stanze qua c'hanno i numeri Sì ho capito che c'hai i numeri però No non andare di là Non andare di là 8D 8 No allora HC vuol dire che fa la curva Aspè Si HC sta per Ehm Non lo so però è Sono quelle che fanno la curva ET e interlock No intersection scusa Vuol dire che ci sono tre strade o quattro Tre in solito Ehm AL Che è dietro alla tua destra E' un airlock Quindi vuol dire che c'ha le porte Che si aprono alternativamente E quindi dove devo andare? Ehm Adesso tu che c'hai la tessera Devi trovare una stanza Che si chiama 914 Ehm Eh vabbè devi andare in giro Finchè non trovi 914 Ok Di solito allora quelle che vuoi cercare Andiamo a divertirci Che bello Allora se vai a GR18 Di solito puoi trovare una pistola Evviva Andiamo qua Wow Hai la cazza per entrare a GR18 No Non serve Di solito vedi la dentro Ci sono gli armadietti con la Oh Qualcosa Ok vedi E dentro alla cosa Dentro alla gabbia dietro di te Di solito puoi trovarci una pistola Oh ecco qua è arrivata la guardia C'è Ah E' sponata Sì sono io No no guarda dentro la cosa C'è dentro C'è qualcosa qua dentro Dove? No Di solito può esserci Di solito c'è una pistola per terra Non quando ci sono io Non quando ci sono io Ah oppure siete presa a Ricky No 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 Conoscendolo Il vostro scopo Quando sponi la ragione Devi trovare una tessera e trovare la stanza 914 Oh Lo facciamo giocare o lo arresto? No 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 Fagli esplorare un po' la mano Cos'è ex invece? Pt è ex? Pt Non andarci E' una stanza che devi evitare Perchè? Perchè c'è il Ci spawn ha un scp Ah ok E ex? L'uscita Exit Qua vai verso la heavy containment Allora vi servirebbe la tessera Devi fare prima l'upgrade della tessera Ah neanche questa non basta? Io posso? Fate le cose più bene Adesso è arrivato un altro tizio qua Ah si? Si Cos'è? Siamo spawnati con le guardie Tutti i guardie? Perchè? Perchè io non so dov'è Però Anch'io non so dov'è Eh bisogna girarlo un po' Bisogna girarlo un po' Qua è la dove trovare Lasciatevi le porte aperte dietro Io le ho già lasciate tutte le porte dietro Qua ci sono i cessi? Qui ci sono i cessi? Ok C'è una meria C'è una meria Vieni a prendere un po' di armi Se dopo puoi difendere Sì Sì ma prima voglio vedere se riesco ad arrivare A crearmi la tessera Devo mettere fine no? Sì Ah hai trovato No no ma mi ricordo che siamo rimasti bloccati l'ultima volta Tu non c'eri ricchi Praticamente abbiamo distrutto la tessera E abbiamo Imprigionato Abbiamo imprigionato Come si chiama? Niga con noi Ecco ho trovato una tessera Povero Marco Che stiamo arrivando eh Te ne ho già lì là Ma voi non mi interessa questa contamination? Eh sì che vi interessa perchè adesso siete nella light containment tutte e due Ma voi non mi interessa questa contamination? Boh vabbè Ah Eh mi ha già ucciso C'è il tipo che mi sta uccidendo Eh ovviamente Ciccarlo No non posso Cambiamo server dai Sì 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 E la prima tentativo di spiegare questo gioco è fallito Quindi Dimmi 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 dove devo andare Oh Andi No Fai disconnect Fai disconnect Tanto E adesso vediamo Play Joint game Find match Dove andiamo? Cerca ITA tra parentesi quadro come al solito E FCP server FCP server ITA Fatto ci sono Sono inside Bene Vediamo di fare la seconda parte di questo video tutorial per SCP Scusa Sono perso che server FCP Si chiama FCP La gente mi avrà ucciso C'è qualcuno che guarda No Nien che voi Bastardi Scusa Sai questo gioco che fai E' meglio che mi Oh oh Ok Adesso sono quello che deve ammazzarvi Ah ok Però non so come si esce da questo posto Credo di essere la nocciolina Eh troppo troppo si Troppo si apre Chissai chi sei scusa Credo la nocciolina Spero 49 no? Sei nella Elvis Sei Come un aeroport No Sono quello che urla Penso Ah ok Ah lo spiegare Quello che non ho mai visto Madonna Che orribile Che cazzo Io non l'ho mai visto Perché ho sempre Cioè ogni volta che l'ho giocato Cioè l'ho sempre giocato Mai Mai fatto Sempre giocato Ok Sì Quindi adesso che sono il mostro Adesso che sono il mostro Devo solamente uccidere la gente Basta Indiscriminatamente chi Devi cercare Devi cercare La containment zone adesso Eh Che Differente chi Basta uccidere No Andrà di qua c'è un'altra cosa Qua Dove sei adesso? Dici a me? Se non sbaglio Mi stai spiando? Sì 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 Guarda a sinistra Sì Eh ma non posso Io ho provato una volta Ma non potevo entrare No esatto Perché là c'è un'altra SCP C'è Là qua c'è l'uomo nero Quindi non sei Ah è la nocciolina? Ah l'uomo nero Qua Vedo molto scuro E il tema tutto basso Eh no È così Non so come schiarire I settings Dai dai Vabbè È più bella È più darkness La gente deve guardare Deve giocare questo gioco al buio Deve morire male È vero Tutti hai capito? Oh Oh Questo posto l'avevo già visto una volta Però qua non posso entrare Ma c'è neanche una cazzarita E' serana Sta partita Ogni quanto O Viene Nero spawn Cosa ha fatto? Ho vinto? Ho vinto? Capite com'è che hanno vinto i 10? Com'è che sono morto e ho vinto? Eh? Sì Prega sta cosa? Non so Vabbè Perché io non sono scappato Cioè Ragazzi Non ho capito perché si vince Come sei morto? Sì sono morto e ho vinto Trappole lenti Averlo saputo Prima Morivo prima Vincevo prima Cioè A quanto pare funziona così questo gioco Mamma mia che bello questo gioco Eh Critico Se ci fosse il fox E mi avrebbe già ucciso 67 volte Come l'ultima volta Oh no No fall damage C'è la cascata anche tu Sì Ero là Ho detto Boh Non c'è fall damage mi lancio Non hai visto tutti i meme di Enrico No Dopo un po' mi rompo le scatole a guardare il gruppo ragazzi Cioè nel senso ci sono più peni che altro Allora Un nuovo quadro Allora siamo lamentose Forse saremo qualche patata Eh Sorridete Sì Io sono lamentoso Ma non Sto gioco Un po' Eh perché non lo siamo Eeeeeee Oh Questo di E quindi per usare Eh Questo non lo conosco Il mostriciattolo Sì Ah che bene Ma non so che mostriciattolo sono Perché non lo sono mai stato sto mostriciattolo Come vedi? Blu Allora non lo conosco anch'io Blu Che lettera non lo sai? Eh? Basso Basso Cosa sei lì? C'è scritto C'è scritto Non lo so C'è solo che non posso passare per la porta Perché l'unica porta che c'è È Accesso negato Eh devi aspettare un tanti Gli esercibi cominciamo un attimino dopo È una roba strana Secondo me con questo posso sparare addirittura No è possibile Ho due special ability Forse sei il coso? Ah sei l'uomo nero forse Larry Hai tipo una pozza con due flecce dentro? Sì Un'altra macchia Allora sei l'uomo nero E cosa fa l'uomo nero? L'uomo nero intanto è la prima C'è una delle due se non ricordi Che ordine Ti permette di creare Chiamiamolo un waypoint Una specie di punto di ritorno Mentre la seconda Ti permette di Tornare A quel punto Quindi con uno Setti Il punto Un punto Che vedrai una macchia Che si creerà per terra Con l'altra Ci vai a quella macchia Dopo che magari ti sei spostato Quindi Puoi tendere tipo Delle buscate E degli agguati Non so Li prendi da una parte Loro scappano Perché sei più lento Di un essere umano Quindi Ti dovrebbero riuscire a scapparti Se Corrono abbastanza Bellissimo Peccato che non posso uscire di qua Però Tu puoi tornare ad esempio Indietro se ti passi E bloccarli a metà A metà strada E quando li prendi Quando sei vicino a loro E che premie Lui ci fia all'istante Ma li metti in una cosiddetta Pocket Della dimension Dimensione Tascabile Non so Una tasca Come le metto Nella pocket? Li metti Li porti in un'altra dimensione Ma e come? Continui a giocare Loro semplicemente spariscono E vanno in un'altra dimensione Ehm A caso Quelle dimensione hanno tipo Non so Un sedici forte Lo sento Deve essere qua In giro Vabbè Ehm Io sono ancora No io sono ancora bloccato la Non posso muovermi Non c'è niente Non puoi muovermi Puoi passare attraverso le porte Posso passare attraverso le porte? In teoria si Siamo da tre quarti d'ora che cerco di passarci Ah Ok Buona sapersi Non apri le porte Eh non lo sapevo Io premevo e mi diceva accesso negato Se è uscito qui in te Si Questo si Ah Non ti vedo Sono davanti al tuo posto Non sei davanti al mio posto Quanto pare Sì 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 Sento i tuoi passi Ah forse è uscito al mio di sotto Porca boi Ho paura Come faccio a farti di portare No no Non lo fare Sì dai 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 Vieni 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 Mostragli come si fa a contenere quelle scimmie Eeeh non posso entrare Ah mh Bisogna andare al mio di sotto Vieni vieni qua Qui è andato? Io Mi sono teletrascordato indietro Ma perché torna indietro? Perché ho sbagliato Voglio teletrascordare qualcuno in un'altra dimensione Ah è parola Parola Come faccio a teletrascordarti in un'altra dimensione? Eeeh Non prendi Ah no Non lo fare È il tuo attacco diciamo No no lascia stare Vieni 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 Non c'è niente Vieni qua No Vieni Vieni Oh che grande figata Secure Contained Project Lo sai Sono in un posto dove c'è una pistola strafiga Ah si Ecco questa qua Eeeh Questa qua serve per uccidere gli scp Ah Un altro perso Ebbene la stanza si chiamano così guarda MicroHID Ah Ed è fatta così vetrata e doppia porta quando ci passi Sempre fatta uguale Ok Che qua Vediamo dritti dritti davanti a te c'è una cosa che è interessante No ho sbagliato L'ho vista qua Ecco questa qua E' la stanza server Eh quella che dove sono esploso l'ultima volta Ecco Di solito c'è la seconda porta qua sotto Anzi c'è sempre la seconda porta qua sotto Di cosa? Eh si serve per passare a un'altra zona E' proprio questa Non sempre collegata agli ascensori eh Non posso passare per questo posto No puoi chiamarlo però Chiamalo chiamalo Censore Non devi aspettare Ciaoooo Tanto non c'è l'altro che è uguale Tu hai trovato la carta Ho trovato la carta Ho trovato il posto Per cambiarlo Sto aspettando Sto Sto lavorando Ma se lascia una torcia dentro cosa succede? Lo so Sì Allora questo qua E' un interlock Ah scusa intersection Questa è la ruscita Exit B vedi? C'è scritto su Questo è un corridoio circolare Si chiamiamo HC Ecco qua ci sono i bagni Di solito qua dentro Dove sei? Vedi? C'è scritto WC Sì Sì ho visto Sai quante volte ci sono entrato qua dentro e non ho mai trovato una sega Di solito qua dentro Ecco vedi Oh c'è una carta Questa No 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 Una pistola Dove c'è? Dove sei? Non lo so dove siete Eccoti qua T-5 minuti Questa è con l'arma Lidia La 00 Io Ci posso entrare Di solito la gente non ci può entrare Si può entrare solo le guardie immagino Solo le guardie si Oppure con la testa O io perchè ci posso attraverso la porta O tu perchè ci posso attraverso Però non puoi prendere niente Qua è dove spawnano Questo è un piccolo cieco Non c'è andare Questo è in CD Torna indietro Torna indietro C'è in T-D è piccolo cieco C-D è dove spuntano i Di Boris Vedi? Cd0 Class D E chi? Class D Ah è in Class D E niente Poi si va un po' Un po' Un po' caso Tipo vedi queste due ad esempio sono Di là ci siamo arrivati E questo è un piccolo cieco La GR Quindi si va di qua Welcome Eeeh Buona Andiamo di qua Dove siete? Dove siete? No no questa è chiusa No no questa è chiusa Eh sì Dove stiamo? Non so dove stiamo? Non Boh io ti ho perso Ho vinto Eh spero Eh Peppa seguimi Vai Seguimi Entra in alto dimensione Stai trovanto Ho visto la porta di Eccolo qua eccolo qua eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua Vieni dritto Vieni dritto Questa è quella con la carta Questa è quella con la carta Ah si E' stato divertente Dove siamo alla 914 Tu dove sei? Sì Troviamo alla 914 Tu dove sei? Eeeh Buono vabbè Comunque insomma Queste sono abbastanza importanti E questo il bello Che bello Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua Eccolo qua Madonna le musiche che fa Eccolo qua Quando lo vedi Che bello che sei Che bello che sei Nooo Eh non c'è più Ricky Prova a venire Prova a entrare nella dimensione qua adesso Come fai che entrare? Entrando la sua E mi pare che deve venire qua per ammazzarci No no Apriamo a soli? Cioè ci lasciamo? Donno un po' Di solito Ci vediamo No E' un bambino mi sa Ci sta guardando E dopo questa bellissima cosa signori Sì Andiamo proprio a continuare a giocare? No Per farne a meno E' che forse arriva Lady Arriva No non so Peppe, guarda Telegram E' che bello Sì Oh Pusciamo allora Sì Vorrei fare un po' di TF Non credo che sia installato Da Trollandia è tutto Se vi è piaciuto Amen Nooo Salutate